Benvenuti da Danny MC, sono tornato come ormai lo sapete tutti per una ragione di passione che va oltre misura, visto che questo mondo della musica una volta che sei entrato dentro non esci più, questo ormai è stato appurato. Ho avuto un anno fuori dagli schemi perché mi sono veramente rotto le scatole di questo finto perbenissimo che regnava nel contesto musicale e avevo bisogno di altro, sono andato in Sardegna per lavorare in un contesto che non c'entra niente, nel mondo turistico, è un contesto che mi è sempre un po' piaciuto o comunque stuzzicato e ho visto che in Costa Smeralda con tutti gli amicizi che avevo potevo fare delle grandi cose e così è stato, è stato un anno bellissimo e durante quell'anno ho incontrato un sacco di persone che erano o mie fan o gente che mi conoscevano o altrimenti altre persone che non mi conoscevano e che siccome occupavo di turismo in Italia e di lusso si sono accorti che alla fine firmavo degli autografi in giro e chiedevano ma come mai e ho fatto presente di chi ero prima di fare e occuparmi di turismo elitario lusso in Sardegna. Tutti quanti mi hanno per mesi chiesto di tornare insomma sulle scene e anche questi che non mi conoscevano mi chiedevano continuamente ma perché hai smesso proprio tu con quello che hai fatto e niente a forza di dai mi sono ritrovato un giorno un amico svizzero che è venuto lì e lui mi ha lavorato ai fianchi come si sol dire in francese praticamente è stato lì per una settimana da turista e mentre andavamo in giro a scoprire i luoghi incantevoli della Costa Smeralda a certo punto mi ha detto vista la passione che metti nel turismo che è la stessa che mettevi nella musica perché non fai l'uno in aggiunta all'altro che sarebbe una figata e allora a questo punto la cosa mi ha fatto riflettere e ho cercato in questo caso di tornare ma prima di tornare volevo sapere se c'erano ancora i mezzi per poterlo fare e ci siamo accorti che in poco tempo che praticamente tutte le porte che avevo bussato di nuovo erano tutte aperte grande aperte di nuovo per me e allora ho deciso di rifare quel passo ho ricontattato un po tutti e tra l'altro c'era anche Radio Italia Network che era interessato al mio programma in radio programma in radio house machine e quindi siamo messi subito d'accordo per partire con questo programma e da quel momento lì ho contattato anche Gabri, Gabri Sax che in pratica è stato sempre mio grande braccio destro e abbiamo deciso di ripartire anche con tutto quello che concerne il discorso musicale insieme quindi ne vedrete delle belle siamo praticamente pronti per fare tantissime cose quindi sappiate che non ci fermeremo più anche perché mi occuperò sia di musica che di turismo e faremo delle cose in joint venture l'uno con l'altro quindi preparatevi al meglio ciao